cari amici buon pomeriggio eccoci qui nuova location in virtù del fatto che come sapete sto affrontando la patente dal computer ha bisogno di una cosa appartata ma è un punto buono per varie complicazioni che in tutti i condomini ci sono comunque a parte questo veniamo al vero motivo per cui siamo qui parliamo di quanto accaduto in questa settimana in wwe iniziando dal lunedì col monte night row dove a poche ore dallo show rosso del lunedì sera in america drew mcintare aveva ufficializzato la sua positività al covid 19 puntata retta sinceramente da triple age e randy orton questo confronto quasi infinito all'interno della puntata infatti due poi nel main event nel segmento finale di puntata arriveranno anche a sfidarsi ma match che poi alla fine si risolverà in un nulla di fatto ma le sievans come fatto anche settimana scorsa grazie al super furbettone rick player anche questa settimana riesce a pinnare ovvero a fare un conteggio vincente sulla figlia di rick flash di rick player charlotte player quindi bisogna vedere ora effettivamente rick player ha un ruolo da manager nei confronti di lesi ivans o parliamo di una storyline amorosa col tempo lo scopriremo solo vivendo poi incredibile sconvitto di geffardi contro jackson riker con assistenza di elias ma poi geffardi si vendica su elias e vince kate lee e shimus battono demise john morrison poi i due perché ricordiamo che kate lee e shimus hanno avuto nel corso di queste settimane degli screzzi si spidano uno contro di l'altro e a vincere kate lee anche se poi shimus gli offre il pugno in segno di amicizia mckinthair assicura sia la wwe che i fan che il suo match contro goldberg di royal rambola è alto sicuro poi kofi kingson è infortunato infortunio alla mascella se non mi ricordo ma dovrebbe esaltare si pensa almeno una puntata di raw t bar vince contro xavier woods poi c'è la sfida titolata per il titolo degli stati uniti tra bobby leslie contro matt riddle a vincere bobby leslie con la sua art lock poi riddle sfida mvp con assistenza di bobby leslie questa volta a vincere riddle ma tramite squalifica poi match come successo anche nella notte scorsa smackdown con la possibilità di guadagnare il post alla royal rumble tra drew gulac e dj stanza a vincere ovviamente e j stiles naya jacks e shana basler affrontano mandy rose e dana brook a vincere sono la jacks e la basler triple a randy orton match che sotto l'effetto del demone defiende soprattutto di una alexa bliss più che scatenata perché lancia una vera e propria potremmo dire kame kame a di fuoco a randy orton che rimane quindi col letteralmente colpito anche visiva visivamente fisicamente colpito bene dopo ro passiamo a nxt la puntata con protagonista il dusty rose il dusty rose tournament maschile ma william riega l'ha ufficializzato che dalla prossima settimana partirà anche il dusty rose tournament woman femminile allora abbiamo avuto kendish la re che ha battuto sciocci black art iglize di and vegara veterans hanno battuto lieve di risse sono avanzate al secondo turno del torneo johnny gargano abbattuto dexter lumis di msk conosciuti come rascalzati impact hanno debuttato in w a dnxt e hanno battuto j katlas e isa swerve scotte sono avanzati nel dusty rose tournament saia lì a squociato una job berlandi spiuti dire abbattuti brizzango e sono avanzati nel torneo dusty rose che appunto abbiamo al secondo turno i grizzly di young veterans gli ms cup l'undisputed era poi veniamo ad nxt uk qui abbiamo avuto joey coffee che abbattuto ed harway sid scala che dice a pret di dill che combatteranno ma prima dovrà superare the hunt oliver carter ashon smith in un fatal four way il bomber dave mastiff si allena al performance center e parla con rampage brown mister buffetto tyler bett batte sun gradwell il dragon of sfida jack starts genie con joseph connors fa un promo e sfida apertamente per settimana prossima la campionessa femminile di nxt uk kyla ray walter sconfigge e kid il campione del torneo che finito po poche settimane fa era match valido per il titolo della massima cintura nxt uk quindi walter mantiene il titolo massimo uk poi veniamo a smackdown con altre belle sorprese innanzitutto possiamo dire che shinsuke nakamura è passato dalla parte dei babyface infatti jose aveva provato a vincere in maniera scorretta ma nakamura l'aveva colpito con la kinsashia quindi a vincere è stato shinsuke nakamura natalia live morgan termico la vittoria di natalia re misterio contro king corbin vede vincere king corbin che con che colpisce oltre che re misterio anche il figlio prediletto dominic misterio poi daniel bryan contro sesaro vince sesaro apollo cruz semi zain vittoria di apollo cruz che continua a stuzzicare big e perché apollo vuole vincere questa tanto agognata cintura intercontinentale e poi adam pierce sorprende tutti perché non andrà lui contro roman rens alla royal rumble per il titolo universale ma ritorna a grande acclamazione dei fan seppure virtuali kevin owens terminiamo il nostro racconto con 2 o 5 line con 2 o 5 live i pesi legge joachim wade e raul mendoza abbattono i bollywood boys poi gillian dain e drev maverick avanzano nel torneo dusty rose battendo kurt stallion e august gray quindi reso conto finale della car del pay per view royal rumble 2021 abbiamo roman rens contro kevin owens in un last man standing match per il titolo universale drew mckinder contro goldberg per il titolo dubbio blu le risse reali in quella maschile daniel bryan bobby leggi le gestice randy orton odys de mizze je uso sesaro in guala femminile naya jacks charlotte flair bianca belair beli mandy rose e dana brooke per questo appuntamento e tutta la prossima ciao